... Terza corsa, una bella prova per quattro anni, non vincitori di 35.000 euro in carriera. Prova di qualità con sei partenti, al 2 Daiquiri Piz, Matteo Zaccherini, 3 Duchessa Griff, Filippo Monti, 4 Dubai Tor, Giuseppe Franco, 5 Dubai Jet, Giuseppe Marseglia, 6 Dylan Chris, Michela Rossi, 7 Daphne Rock, Cristiano Pepponi. Favorita Daiquiri Piz su Duchessa Griff, match tra Filippo Monti e Matteo Zaccherini. Problemi per Duchessa Griff? Che fa il balletto dietro la macchina. E in partenza è Dubai Jet a prendere la testa nei confronti di Daiquiri Piz, poi Daphne Rock che si insinua all'interno di Dubai Torre e gli soffia la terza posizione. Ancora Dylan Chris mentre segue distante Dukessa Griff che ha fatto il balletto dietro la macchina e ha lasciato lì ogni chance di vittoria presumibilmente. 14,7 il lancio di Dubai Jet che si è portato all'avanguardia su Daiquiri Piz. E ora guida, Daphne Rock in terza posizione a precedere Dubai Torre e quindi Dylan Chris. 29,3 il primo quarto di gara, Dubai Jet che come sua abitudine quando prende la testa non ferma ma va sul passo e passa i primi 600 metri in 44,4. Dubai Jet al comando, seconda posizione per Daiquiri Piz, poi Daphne Rock quindi Dubai Torre e altri più distanti. Quando siamo al completamento del primo giro passato in 59 viene privata dei tappi estraibili Daiquiri Piz per seguire il ritmo allegro imposto al comando da Dubai Jet che si appresta a passare il primo chilometro d'avanguardia in uno 13,8 dai Chiri Piz nella sua scia. Poi Daphne Rock e quindi Dubai Torre, è ancora in vantaggio Dubai Jet dai Chiri Piz che attende il momento propizio per spostare. Si infila al suo interno però Daphne Rock all'imbocco dell'ultima curva. C'è stato un 14,2 di là, Dubai Jet in fuga da Daphne Rock dai Chiri Piz che ha spostato ma per il momento non guadagna. Dubai che è in vantaggio, Daiquiri che cerca di trovare la pedalata giusta, Daphne Rock che attende l'open stretch, la retta d'arrivo che Dubai Jet affronta al comando, Daiquiri Piz sul passo a largo, va di dentro Daphne Rock, è ancora in vantaggio Dubai, si difende dall'attacco di Daiquiri, Dubai in vantaggio, Daiquiri che attacca, testa a testa tra i due sul palo, è strettissima anche questa con Daiquiri Piz che nei pressi del palo potrebbe aver pizzicato Dubai Jet, poi Daphne Rock 1'13,3 raguaglio cronometrico, Matteo Zaccherini che ha fatto impegnare a fondo Daiquiri Piz che ha attaccato Dubai Jet il quale ha corso molto bene all'avanguardia, gli sono mancati forse gli ultimi 50 nei quali la femmina lo rimonta e sul palo probabilmente lo giustizia, Daiquiri Piz, Matteo Zaccherini, l'allenamento di Alessandro Gocciadori, i colori di Johnny Pizzolato, la vittoria del numero 2 con finish a centro pista, a battere un ottimo Dubai Jet che si deve arrendere solo negli ultimissimi metri, al terzo posto, corre bene Daphne Rock. Grazie a tutti.